Operare sulla piattaforma Lendix è molto semplice, sia per le imprese che richiedono finanziamento, sia per gli investitori che decidono di finanziare le imprese attraverso la piattaforma. Per le imprese è sufficiente inserire il numero di partita IVA, l'importo e la durata del finanziamento richiesto e in tempo reale si ottiene una risposta sull'accettabilità o meno della richiesta. Nel giro di 48 ore la società riceve da Lendix una proposta vincolante con i termini e le condizioni per il finanziamento e nel giro di pochi giorni ottiene sul proprio conto corrente l'importo del finanziamento richiesto. Per gli investitori il processo è altrettanto semplice, dopo essersi registrati sulla piattaforma gli investitori hanno accesso all'elenco di tutti i progetti che sono pubblicati e che richiedono un finanziamento, possono vedere la caratteristica e i dettagli dell'impresa, il progetto per il cui l'impresa richiede risorse, i dati economico-finanziari e decidere con due clic la somma da investire su ogni singolo progetto. L'importo che può andare da un minimo di 20 euro ad un massimo di 2000 euro per progetto. In questo modo gli investitori possono avere direttamente l'opportunità di investire sull'economia reale insieme ad investitori professionali e istituzionali che oggi sono rappresentati da banchi e assicurazioni che investono attraverso Lendix insieme agli investitori privati. Ad oggi il rendimento del portafoglio complessivo Lendix che somma tutti gli investimenti effettuati attraverso la nostra piattaforma ad oggi, il rendimento complessivo dicevo intorno al 6% con un tasso di rischio che abbiamo dimostrato di saper gestire correttamente.